Io non credo di essere mai intervenuto in un'assemblea nazionale d'Italia Viva perché penso che sia il momento dei nostri compagni e amici che arrivano da tutta Italia di far sentire a noi qui a Roma cosa succede. Però questa mattina quando mi sono svegliato ho pensato che fosse il caso di provare a mettere a terra un modo concreto, pratico, tangibile che cosa stia succedendo. Lo faccio, qui anche Elena c'è Teresa che ci guarda da casa, noi lavoriamo dentro il governo, siamo lì, facciamo cose quotidianamente, andiamo in ufficio, abbiamo la nostra agenda di governo da portare avanti. Quindi mi sono detto che oggi volevo raccontarvi brevemente che cosa non potrò fare, non potremo fare nei prossimi giorni se cade il governo. La prossima settimana era atteso in Consiglio dei Ministri un disegno di legge molto importante che sto seguendo che è la riforma del testo unico degli enti locali. Qui ci sono sindaci, consiglieri regionali, consiglieri provinciali e tutti sapete quanto c'è bisogno di mettere in mano un testo di legge che ormai ha più di vent'anni e che chiede delle riforme rapide, velocissime. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i sindaci di tutti i colori, di tutti i partiti perché oggi che mi occupo di enti locali so quanto voi siete in prima linea continuamente. Il sindaco non si fa, si è. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, non c'è mai un momento nel quale le tue persone non vengono a chiederti qualcosa, una soluzione di un problema e tu non puoi scaricartene. Sei il front office della Repubblica e ci sono i nostri sindaci che vanno sotto inchiesta perché un bambino ha messo un dito dentro una porta tagliafuoco e noi non siamo in grado di dare risposte a queste persone che tengono in piedi l'architettura della Repubblica perché non c'è una norma che li protegga. Abbiamo le nostre province che fanno i miracoli, si sono trasformate davvero con un miracolo all'italiana da qualcosa che doveva sparire a qualcosa che oggi è diventata la casa dei comuni. I piccoli comuni si appoggiano alle province che sono fatte di gente operosa, di consiglieri comunali, di sindaci, di tutti colori che collaborano tra di loro perché sanno che devono portare dei servizi ai loro colleghi sindaci magari di comuni più piccoli e le province lavorano in un modo assurdo con un sistema elettorale cervellotico, il presidente non ha una giunta, deve fare tutto da solo, c'è un problema di finanziamenti. Tutto questo va via. Poi sto lavorando su un testo di legge che si occupa di infiltrazione mafiosa nei comuni, sto lavorando con tra l'altro Gennaro Migliore, con Lello Vitiello e sapete soprattutto chi viene dal sud ma non soltanto dal sud quanto questa tematica sia importante e quanto sia importante rafforzare quell'istituto. Sto lavorando su una legge sulle vittime del terrorismo. Speravo di andare a Bologna il 2 di agosto quest'anno di poter dire a Bolognesi il presidente dell'associazione delle vittime che il Parlamento stava portando in commissione esaminando un testo di legge di quel genere e probabilmente non potrò farlo. E poi stavo lavorando, sto seguendo personalmente una legge che si chiama Iuscole che sulla quale il governo non prenderà posizione naturalmente perché la maggioranza o la ex maggioranza era divisa ma sono sempre una persona, sono pur sempre un parlamentare e quindi in modo diciamo così equanime seguo un segno di legge senza far prendere posizione al governo ma so quanto è importante quanto tanti ragazzi italiani aspettano di essere riconosciuti come tali e questo Parlamento come il Parlamento precedente non riuscirà ancora una volta a prendere una decisione. E poi stiamo lavorando sul voto elettronico con l'agenzia per la cyber security stiamo lavorando veramente su tantissime cose, i segretari comunali un'altra cosa importantissima ci sarebbe stata una riunione per il rinnovo del contratto, vabbè tante cose che non succederanno non succederanno perché qualcuno ha preso appunto ha fatto questo gesto irresponsabile completamente e lasciatemi dire che mai come oggi io penso che quando noi siamo andati via dal governo Conte abbiamo reso veramente in servizio alla patria perché il fatto che l'Italia sia stata nelle mani di questo incapace perché purtroppo si tratta di una persona la cui inconsistenza politica è massima e devo dire la responsabilità è che qualcuno abbia deciso letteralmente di fargli fare il Presidente del Consiglio una persona che non era mai entrata nell'aula di Montecitorio e è andata a sedersi direttamente al posto che fu di Aldomoro, di Alcide De Gasperi, potete capire il disagio che avevamo anche noi in Parlamento a guardarlo e questa è una responsabilità veramente grave e lasciatemi dire un'ultima cosa perché appunto so che il tempo è finito guardate lo hanno detto tutti quelli che sono venuti prima di me ma Giuseppe Conte sta lì perché qualcuno ha teorizzato una alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle e guardate che questa è una cosa veramente molto grave perché non è stata una mossa tattica non è stata una mossa aritmetica, non si è cercato l'alleanza con il Movimento 5 Stelle per sommare i miei tuoi voti e vincere qualche collegio della legge elettorale della parte maggioritaria si è portato il Movimento 5 Stelle e indicato Conte nel faro della sinistra perché si era convinti che quella fosse la cosa giusta da fare questa è la tragedia perché il Partito Democratico ha pensato che il contatto perso con le masse popolari il fatto che il PD fosse diventato il partito delle ZTL che è una grande stupidaggine perché ragazzi noi nel 2014 abbiamo preso il 41% dei voti in questo paese non li abbiamo presi certo soltanto nelle ZTL quindi non è rincorrendo i populisti che si trovano i voti lo si è fatto perché si è pensato che in questo modo si recuperava un contatto con le masse popolari ed è per questo con un pezzo di sinistra io credo vorrà andare alle elezioni col Movimento 5 Stelle perché ci crede profondamente Matteo parlava della Puglia ragazzi noi in Puglia abbiamo orgogliosamente detto che i pugliesi non potevano scegliere soltanto tra il sovranismo di Fitto e il populismo di Emiliano ma chi ci ha voltato le spalle e chi non ci ha appoggiato quella stessa sinistra diciamo così anche rappresentata dallo stesso Vendola che ha portato avanti un progetto di regione intelligente e strategico ma Michi Vendola ha appoggiato Michele Emiliano questo va detto chiaramente noi abbiamo operato in assoluta solitudine e guardate io penso che abbiamo fatto bene perché non tutti i progetti politici la validità non si misura sempre con la bilancia e con i numeri delle volte in politica si fanno le cose perché sono giuste perché sono giuste e quella nostra battaglia è stata una battaglia giusta chiudo dicendo che quella deve essere la nostra battaglia anche per le prossime elezioni ha ragione Matteo noi rappresentiamo un pezzo d'Italia che nessuno rappresenta perché l'Italia non si esaurisce tra i sovranisti e i populisti non finisce lì c'è un'Italia che la mattina va al lavoro e alza la Claire, alza la Saracinesca produce la bellezza del Made in Italy va a lavorare e crede nell'Europa federale sostiene l'Ucraina e quant'altro pensa che il lavoro sia la base della Repubblica e non l'assistenzialismo e quell'Italia ha diritto di essere rappresentata noi abbiamo il dovere di rappresentarlo senza avere paura perché prenderemo sicuramente i voti ma ripeto noi abbiamo anche il dovere di rappresentare un pezzo d'Italia che se non rappresentiamo noi non rappresenterà nessuno grazie Ivan, grazie per il tuo lavoro grazie per il tuo lavoro